Ci sono più responsabilità, sentiamo comunque, c'è un po' più di pressione perché comunque l'anno scorso nessuno ci calcolava e eravamo dati spacciati prima di partire, no? Però adesso, adesso ho cambiato un po' le cose, però non sarà facile comunque confermarci ad alti livelli, dovremmo essere veramente bravi e con i piedi ben per terra per fare un grande campionato come l'anno scorso. Gilles, da capitano e veterano di questa squadra, sensazioni alla vigile del campionato? Sono buone perché la squadra ha fatto un grossissimo lavoro, è stato un ritiro lungo e duro, però hanno risposto tutti alla grande e stiamo preparando questa partita con grande voglia perché comunque abbiamo visto l'ambiente com'è, è bella riscaldata, la gente ha voglia, ha voglia di vederci e noi proviamo a rispondere alla grande. Che Juventus ti aspetta? I loro sono già impegnati in Europa League, quindi preparazione avanti, però potrebbero accusare un po' di stanchezza? No, all'inizio no, all'inizio gli impegni ravvicinati, cioè non succede niente, invece sarà una squadra già in palla e con grande voglia di rivincita che l'anno scorso è stato un campionato negativo, sono tanti nuovi giocatori, e niente, comunque la Juve rimane sempre la Juve e sarà una partita difficile e normale. Ha cambiato tanto però, ha detto via Diego, ancora un cantiere aperto? Sì, stanno cambiando tanto, però comunque la squadra è sempre quella, si non gioca a Diego, gioca a Del Piero, tutti gli altri, giocano da due mesi insieme, hanno già tanti impegni ufficiali nelle gambe, sarà da fare una gran partita, se vogliamo vincere dobbiamo dare oltre il 100% nostro. Hai sentito Leonardo? No, ultimamente no, l'ho sentito prima e niente. Questa visita è l'Ettida? No, lui il suo grande sogno è venire sul calcio d'angolo e farmi gol, no? Vedremo che sia sfogato in Europa League, speriamo che sia già fatto tutto in Europa League. Per te sarà una gara importante perché è ugualerà il record di presenze di Giovanni Roseto? Sì, no, un bel traguardo però l'obiettivo è superare perché pareggiare non mi interessa. Hai un sogno per questa stagione? Sì, che la squadra e io facciamo così molto bene, che facciamo come l'anno scorso, no? E magari migliorarci, quello è l'obiettivo, fare meglio, almeno pareggiare o migliorare l'anno scorso. Riegoci insieme col Bianco e Rosso TV Sport, un'altra primizia, la prima pagina del nuovo galletto che troverete domani, ancora una volta davanti all'ingresso dello stadio. Questa è una foto che risale all'ultimo scorso campionato con Albinon che mostra una maglia bianco-rossa col cuore. Ci batte il corazon, ci batte il cuore, questo è il titolo perché davvero è tantissima l'attesa per questa prima giornata di campionato, sintetizzata così al nuovo galletto dei miei amici editori Antonio Di Summa e Domenico Gesù e del preziosissimo Maurizio Fontana. Allora, c'è una mica in linea, credo, intanto i tifosi si sbilanciano con i pronostici, 2-0 doppietta di Barreto, scrive Nicola. Beh, l'unica cosa che mi è piaciuta di questa sovrimpressione, queste 2-0, ma la gara a Crist, gli pago il caffè, non soltanto uno. Che fino hanno fatto Alessandro e Romero? Romero si è operato, credo, ieri in Spagna addirittura per un problema, una sublustrazione della rotola, credo. Romero e D'Alessandro si deve ancora abituare un po' ai carichi di lavoro, probabilmente avrà bisogno. Ci sarà la diretta. Certo che ci sarà, bravo, hai fatto bene a ricordarmelo, perché domani su Radio Bari 88.8 per l'ultima mezz'ora della partita, per il dopo partita a caldo, chiamate, quello che volete, insomma, siamo in diretta. La trasmissione avrà inizio alle 19.30 e proseguirà fino alle 21 con le voci dei protagonisti, i vostri commenti a caldo. Ma come si fa a dire, come si può rispondere se è più forte o meno forte dell'anno scorso? Non è possibile, questo è che io chiedo a tutti quanti, non le fate certe domande. Vediamo come va e poi si tireranno quantomeno le conclusioni. Ventura considera Ghezzalo un esterno, in effetti. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Nicola. Ciao Nicola, ciao. Ciao, ciao. Anzi, una delle ultime puntate che hai fatto tu, dissi che a me, così come vedo, mi sembrava leggermente più debole dell'anno scorso. Non per niente, abbiamo una difesa metà nuova, è un attacco che sicuramente, come dice anche il dottor Antonucci, Meggiorini, anche secondo me è un signore attaccante, anche perché per l'altezza e per la grinta che ha, ma purtroppo Kutuzov c'è un po' un modo diverso di interpretare la partita. Io penso che quest'anno sia importante avere la precisione, cioè dai giocatori che comunque formano la rossa l'anno scorso, se Alvarez comincia a dare, non dico, uno ne sbaglia, cioè due ne sbaglia e uno ne azzeca, però i cross devono essere precisi, perché se Alvarez continua a fare tutto da solo, a mandare palle dove non si capisce dove, quest'anno secondo me il lavoro dell'esterno è importantissimo, perché quelle poche occasioni che avremo contro questi squadroni, le dobbiamo sfruttare, perché se no, se buttiamo palle... Va bene, va bene, però non fare un discorso d'opinionista tecnico, va bene, ciao Nicola, grazie, grazie. Allora, allora, io che cosa voglio dire? Io sono d'accordo con Gianni Antonucci, voglio vedere la squadra giocare, voglio capire esattamente, perché non conosco l'esatto valore di Marco Rossi ad esempio, intanto qui, oh, non dovete mandare queste immagini senza chi ve lo dica, aspettate me prima di andare in onda, perché queste sono immagini storiche, le vogliamo mostrare queste immagini, sì, sono immagini di una partita memorabile, il 2 a 2 fra Bari e Juventus, 2 a 2 Bari e Juventus. Il 22 febbraio 1984. E con eliminazione della Juventus di Platini, Bogni e compagnia bella della Coppa Italia, no Gianni? Sì. Partita fantastica. Arbitro Redini di Pisa. Redini di Pisa, vediamo... Il rigore qui segna Messina. Infatti, un rigore lo segna Messina e l'altro Lopez, credo, all'ultimo minuto. Sì, all'ultimo, all'altra porta. All'altra porta. Questa fu una partita memorabile, lo stadio della vittoria era stracolmo, davvero qualcosa di pazzesco, di clamoroso. Va bene, va bene, va bene. Torniamo in studio nel frattempo, magari, mentre vediamo queste immagini sullo sfondo. Gianni? Non vedete, non facciamo... Adesso facciamo quelle della vittoria a Torino. I precedenti fra Bari e Juventus, quali sono? Sono 31, perché 30 sono i campionati di A che quest'anno fa il Bari e 30 le partite con la Juventus. Mentre c'è quella anche di Serie B, che noi vincemmo con il gol di Carrus, quell'anno che poi la Juventus stravinsa la Serie B. Ci sono 17 vittorie del Bari, le ultime due di seguito, 1-0 in Serie B e 3-1 l'anno scorso. Speriamo che non c'è, il vecchio detto, non c'è due senza tre. Eh certo, certo. Speriamo, ma è difficile, in ogni modo proviamoci. Mostriamo un po' le immagini della gara d'andata a Torino, perché lì il Bari vince addirittura in trasferta per 2-1, una partita strepitosa, storica. C'è un amico in linea, prendiamo una telefonata, 080 501 9998. Questo è il Bari-Juventus 2-1, sono immagini di un servizio Rai. Magari mostreremo un gol, un gol finale, insomma, il gol che decise il match, un gol che è rimasto impresso nella memoria dei tifosi. Un palonetto, una cosa del genere, giusto? Sì. Un palonetto, un palonetto. E queste sono le giocate da Juventus con Bonia. Questa è una squadra strepitosa. Ricordo che il Bari quell'anno giocava in Serie C, quindi la vittoria fece davvero scalpore. Guarda un bel gol di Messina. Eh beh, questo è un gol da centravanti vero. Lele Messina, anche lui c'è rimasto nel cuore. Ecco qui l'esultanza di Messina. Dovremmo avere un amico in linea. Pronto? Aspettiamo qualche istante, poi prendiamo le telefonate. Poi prendiamo le telefonate. Gianni, veniamo invece ad un altro dato statistico che volevi evidenziare, perché quest'anno il Bari celebrerà un altro grande evento, le mille partite in Serie A. Le mille partite in Serie A. Ed capiterà, se non ci sono anticipi, posticipi o rinvii di qualche giornata per i soliti tafferuli che accadono, speriamo che tutto via tranquillo. E il 6 marzo, a Udine, noi facciamo mille partite in Serie A, a Udine. E stiamo già preparando la festa con i tifosi di Bari che stanno a Udine. Addirittura. Tutti gli eredi di Dario Gai che abitano a Udine. Già la stiamo preparando. Fantastico. Qua ci sono le foto invece in bianco e nero. Sarai anche tu invitato. A Udine. Dove vieni fino a Udine? Va bene. Va bene. Va bene.